Il Comune d'Imperi ha riportato una nuova sconfitta inerente al pagamento delle somme dovute ai lavoratori ex Tradeco. Lo ha evidenziato in una nota il consigliere d'opposizione Giuseppe Fossati che ha contestato la transazione conclusa dal Comune con la Tradeco, costata tra l'altro alle casse comunali oltre 500 mila euro. Fossati sottolinea anche come da un debito iniziale di 173 mila euro nei confronti dei lavoratori, ora il Comune sarà costretto a pagare loro oltre 300 mila euro, cui si aggiungono altri 120 mila di spese legali, con un nuovo pesante danno per le casse pubbliche, senza contare il fatto che i lavoratori hanno dovuto attendere anni per vedere riconosciuti i loro diritti.